In difficoltà, che se è Manuel che non fia paura, che se è Gagliani che si arriva a montarlo per Drio Guardate dove siamo, attenzione, adesso io mi sporcherò con la mano alla catena Guardate cosa c'è sotto Un spettacolo Guardate che spettacolo ragazzi, qua ti tiri un sasso, 50 metri di profondità, 60 Andiamo avanti, andiamo avanti E guardate davanti di noi cosa ci porta a vedere Zio Canaglia, che c'è anche la grotta Vare grazie a fare Questo qua non lo troverete da nessuna parte, è un posto E' proprio made in gratticolato che vi porta al centro della terra Dai, ti è duro, poi c'è bello perché c'è anche come una barzetta Una barzetta Perché se chiamo portatria è anche uno che ha i divertigini, Manuel Non so se ce la faccete a vedere Faccete Mardo ti ripeto, se ti casca il telefono Non casca il telefono, andiamo avanti dai Ragazzi, sì Un posto incommensurabile Cioè, guardate che roba Guardate che roba Spaziale, spaziale, spaziale Spaziale Grazie.